Prima tappa della giornata a trovare gli amici del Morizzino. Di solito ci vediamo in inverno, non ho capito perché sono qua con il sole e l'erba che si vede però secondo me mi mancavate, non potevo aspettare fino a dicembre. Ma ci mancavi anche te Cavac, ciao! Visto che quest'anno vacanze all'estero non si possono fare, andiamo a scoprire le montagne italiane. Ora prima che vada via il sole voglio andare a vedere il centro di Selva di Val Gardena. Forse ho sottovalutato che a quest'ora in centro poteva far fresco. Prima giornata in montagna finita, domani proverò a fare qualche escursione. Per oggi è finito, ci vediamo domani.